allora ragazzi mi trovo davvero a pochissimi chilometri da Bari 10 15 chilometri sono a torre a mare e sto andando il mio vasco si vede dalla faccia che sto contento si vede allora ragazzi mi stanno arrivando un sacco di commenti io scusate se non rispondo ve l'ho detto sto con la testa al blasco e quindi nel calcio in questo momento me ne frego letto qualche commento e ho visto che molti di voi stanno aderendo a quello che è all'iniziativa che ho lanciato stamattina dove vi dicevo ragazzi questa è la mail di ignazio la russa presa da google è proprio la mail che arriva alla casella postale la casella mail diciamo di la russa al senato che ve la ripeto ignazio punto la russa chiocciola senato punto it mi raccomando il punto fra ignazio e la russa ignazio punto la russa chiocciola senato punto it e molti di voi stanno aderendo sono davvero contento riempiamoli la casella proprio riempiamoli perché questi personaggi devono finirla devono smetterla e adesso davvero stanno cominciando a dare fastidio fastidio prima la prendeva a ridere adesso pure la prende a ridere ma poi dopo un poco penso ma questi riescono a spostare il pensiero dell'opinione pubblica riescono a farti fare addirittura cioè gli italiani stessi tifano contro l'italia perché glielo chiede vessicchio allora se questi hanno tutto questo potere di portare no dalla loro parte il cervello di alcune persone che il cervello non lo usano allora ragazzi dobbiamo fermarli scrivete sulla casella che vi ho dato le mail le leggeranno direttamente lì al senato se la russa cioè la russa non è l'inter l'inter se ne frega la russa sapete com'è la russa è uno che se lo infamano di certo non si sta zitto di certo quindi segnalate segnalate alla russa mandate direttamente i video dalla vostra mail mandateli i video scriveteli nel testo questi ti stanno infamando stanno dicendo che sei un mafioso stanno dicendo che grazie a te l'inter vince come ho fatto io io ho fatto così dobbiamo farli stare zitti questi dobbiamo costringerli a parlare delle loro squadre se tifano davvero per le loro squadre ma questi se ne fregano se ne fregano della juve a questi interessa la pagnotta che si fanno grazie ai bacati ma i bacati non lo capiscono inutile è inutile quindi segnaliamo tutti uniti e vediamo se io sono sicuro che ci saranno dei risvolti in questa in questa situazione infame una situazione indegna allora ragazzi no ho visto il video del romagnolo mentre stavamo per strada ne approfitto adesso che siamo alla stazione di servizio grande romagnolo come al solito ed è un video che io avrei voluto fare domani mattina però lui mi ha tolto mi ha tolto proprio poi non mi piace cioè se sento che qualcuno già l'ha detto poi non mi piace ripetere le stesse cose perché voi voi l'avete già sentita e perché credo che se ascoltate me ascoltate anche il romagnolo no è niente il romagnolo vuole proprio le stesse parole che volevo dire io carlo pelle gatti turam è un nuovo giocatore del milan turam il giorno dopo su tutti i giornali su tutti i siti turam e dell'inter perché dovete sapere che pelle gatti porta fortuna e un paio di giorni dopo frattesi lo possiamo considerare un nuovo giocatore del milan frattesi nuovo giocatore dell'inter ragazzi questo sempre taremi 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 il milan ormai ha in mano taremi taremi è un nuovo giocatore dell'inter tutto tutto proprio secondo no ma poi il bello sapete qual è qualche giorno fa no diciamo molti giorni fa 20 25 giorni fa un mese fa e feci un video dove vi raccontavano di mauro suma che stava con i pazzi in una trasmissione di tele lombardia si scalaventava contro si scagliava contro gli interisti e diceva il milan non ha mai trattato né turam né frattesi ora stiamo parlando di mauro suma sapete la faccia di mauro suma quando gli tocchi il milan peggio di quella di versicchio no 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 peggio di quella di versicchio non esiste una faccia una faccia di odio piena di odio come versicchio non ce l'ha nessuno quindi scusami mauro suma e però sapete che mauro suma se gli tocchi il milan sembra che gli sta toccando la moglie quindi non mi permetterei mai di persona a toccare il milan vicino a suma direi sempre il milan milano una squadra bellissima bellissima e quindi mauro suma che che proprio rimarcava il fatto il milan non ha mai trattato né turam né frattesi queste sono voci di biasin perché poi biasin ci ride sopra dopo invece non è vero non è vero non solo perché lo dice pelle gatti c'è pelle gatti no che suo compare no stanno insieme è milanista è suo compare a milanello quelli vivono a milanello vedono negli ultimi anni hanno visto più volte più tempo pioli che la moglie entrambi quindi mentre pelle gatti non sa fingere cioè pelle gatti è uno che le emozioni no le dimostra proprio cioè le mostra non riesce a trattenerle dicendo turam è un giocatore già del milan frattesi lo possiamo considerare milanista turam e taremi è già nostro è uno che non sa stare zitto mentre suma è molto più più calmo finché non c'è la firma lui non dice niente è proprio per evitare certe figuracce che poi fa pelle gatti pelle gatti ne fa parecchia di figuraccia e niente ragazzi quindi succede che suma no rimarca il fatto che loro non li hanno mai trattati mentre pelle gatti lo sgama e gli dice ma che sta dicendo l'ultima cosa perché il milanista oggi è un si sente io sapete per il milano nella juve per la juve proprio davvero antipatia non per la juve in generale o per lo juventino in generale per gli juventini marci marci mentre il milanista ripeto ho tenerezza per loro 80 10 mi fanno tanto tenerezza perché perché poveretti mi è capitato il fondo sbagliato e quindi il milanista oggi ieri no ha visto la conferenza stampa di conte che diceva quara e di lorenzo rimangono a napoli perché l'ho deciso io proprio no si vede il polso no di antonio conte mentre poi sentono il loro allenatore l'allenatore del milano nuovo mi sfugge il nome vabbè mi sfugge il nome comunque il nuovo allenatore del milano che dice no no zizze non lo voglio io io voglio un attaccante che mi dia profondità che mi dia imbeccato dalla società no cioè mi raccomando devi dire ai tifosi che sei tu che non lo vuoi non noi che non vogliamo pagare le commissioni sei tu che non lo vuoi vedete la differenza ragazzi fra un allenatore e un altro un allenatore come conte è credibile è credibile è uno che ti dà sicurezza è uno che al presidente c'ha le palle per andare dal presidente dire questo lo voglio e questo no mentre l'allenatore del milan è un giocattolino messo lì dal fondo che deve dire quello che vogliono loro ciao ragazzi forza vasco